E di Manuel Di Nicola, il corpo senza vita recuperato nel pomeriggio in un canale del Fucino grazie al lavoro dei sommozzatori dei Vigili del Fuoco giunti da Roseto degli Abruzzi. Il cadavere è stato trovato dopo tre giorni di incessanti ricerche da parte anche dei volontari della protezione civile, delle unità cinofile SAPR dei Vigili del Fuoco, formato per interventi con il sorvolo con i droni e dei carabinieri della stazione di San Benedetto dei Marsi, tutti sotto il coordinamento della prefettura aquilana. Il ritrovamento è avvenuto non molto lontano, circa un chilometro, da dove era stata individuata giovedì la Fiat Punto Bianca, di proprietà della suocera, con la quale Manuel Di Nicola, 33enne autotrasportatore, si era allontanato da casa domenica scorsa, dopo il battesimo del figlioletto di appena nove mesi. Ancora senza un perché le cause dell'allontanamento volontario dell'uomo, uscito senza il cellulare e non visto da nessuno. Quello di Di Nicola è solo l'ultimo di alcuni gialli che hanno per protagonista proprio la Piana del Fucino e dei suoi canali. Infatti ci sono stati altri due epiloghi tragici, quello di Collinzio Dorazio, 51enne disabile, trovato senza vita dopo 23 giorni di ricerche e per la cui morte si indaga per omicidio volontario, e quello di Cesidio Valletta, 35enne di Lecce nei Marsi, trovato senza vita anche egli in un canale del Fucino dopo quattro giorni di ricerche. In questo caso si indaga per omicidio stradale nei confronti di un suo compaesano.